Colmich ha presentato l'Arcadia NX nel 2017 e oggi noi non potevamo fare a meno che pescarci per presentarvela di nuovo perché si tratta davvero di una canna stupenda con caratteristiche tecniche superlative Oggi a far compagnia all'Arcadia abbiamo anche tutta la nuova serie dell'Etrusca NX canne con peculiarità uniche nel suo genere esattamente come la cugina di cui prima vi ha parlato Simone La sigla NX oramai in casa Colmich è sinonimo di altissima qualità a partire dai nylon, alle pasture, ai galleggianti, agli ami quindi questi due attrezzi non sono assolutamente da meno Infatti vi posso assicurare che il termine beach ledgering sta molto stretto a queste canne Per poterle descrivere al meglio ci vorrebbero ben più di questi video e dovreste sicuramente provarla in prima persona per avere la più reale consapevolezza delle altissime qualità di questi attrezzi Ecco quindi come vi presentiamo questi attrezzi L'Arcadia è una canna che vi consentirà di gestire sia i 50 grammi che i 170 grammi in completa scioltezza senza farvi rimpiangere nulla degli attrezzi cosiddetti più potenti Mentre l'etrusca con dei casing che spaziano da 20 a 140 grammi è una serie che ci permetterà di governare agevolmente tutte le zavorre utilizzate mantenendo sempre una perfetta gestione del complesso pescante e un contatto diretto con la preda Speriamo che siano tante Entrambe le serie presentate hanno un diametro di base veramente sottile Si tratta di veri e propri gioielli dotati di una riserva di potenza che siamo abituati a vedere solo su canne strutturate in maniera diversa da queste Canne con dei diametri di base sicuramente superiori rispetto a queste L'Arcadia 440 misura alla base 18,20 mm Mentre la 470 misura 19,50 mm L'edrusca 460 misura 17,75 mm E la 5m 18,90 mm Mentre la 460 ha un diametro di 18 mm Diametri esclusivi per canne eccezionali Torn Powell Torn towers Tornução Torn local Tornal Seble Torn干した Tornal Tornal Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.